... Buonasera da Fabio Caressa Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film inglese con sottotitoli? Di slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no! Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza Una sola punta a reggere tutto il peso della manovra offensiva supportata da cinque centri d'ampiste Questo modulo è utile quando la formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave La punta giusta là davanti può far fruttare al meglio la decisione di schierare cinque uomini di centro campo Anche nella fase offensiva 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 Gimmi, gimmi, just once more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more 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 Gimmi, gimmi, just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, gimmi, just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Gimmi, 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 just more Grazie a tutti 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 Grazie a tutti